Come è stato a giocare in Champions League contro tuo fratello? Come ti senti per averlo battuto? Oh, non ho mai dubitato del fatto che avremmo vinto. Il vecchio Terry non è più veloce come un tempo, vero? Sai come si dice, prima o poi succede a tutti. Quindi Terry ha fatto il suo tempo? Dico solo che è importante controllare sempre la data di scadenza. Beh, mi assicurerò di chiedergli cosa ne pensa. Ah, sa cosa intendo, probabilmente ci riederà su. Sicuramente, grazie.